Sindaco, parte il carnevale siciliano ad Adrano, grande inaugurazione ma quello che vediamo già ci prospetta qualcosa di eccezionale. Grazie anche a voi, a tutti quelli che hanno collaborato, questa grande maestranza di tecnici, di inventori che hanno voluto fare di questa tenso struttura veramente un luogo di aggregazione per tantissimi giovani, tanti anziani, per i bambini, per tutto quello che serve per un carnevale che resti nel cuore di ognuno di noi e come abbiamo detto abbiamo come primo punto affinché tutti possano divertirsi la sicurezza e questa è assicurata da quello che abbiamo messo in campo da tantissimi uomini, dalle forze dell'ordine che supporteranno quello che è una cremesse molto importante ritengo per tutto il territorio. L'invito ai giovani, non solo agli adreniti ma di tutto il territorio, l'invito da trascorrere il carnevale qua. Sono benvenuti tutti quelli che vogliono, sono assolutamente benvenuti, mi raccomando per le giornate clou del carnevale c'è proprio per monitorare gli ingressi un piccolo ingresso di 5 euro, gli altri giorni saranno assolutamente gratuiti ma per i giorni clou del carnevale c'è un piccolo ingresso in modo che sappiamo prima la mole di persone che arriveranno qui all'Arena dell'Etna per divertirsi insieme a noi. Pensieratezza, promozioni turistica, prodotti tipici locali con pasta a kicinco portosa, con le chiacchiere, insomma ce n'è per tutti senza assolutamente tralasciare le cose importanti della nostra città che le abbiamo attenzionate e le porteremo avanti sempre con grande forza e con grande determinazione. Parola d'ordine e divertimento. Sicurezza e divertimento. Sicurezza e divertimento.